Sì, grazie per la linea dallo studio, Carmine, sono proprio in compagnia del direttore sportivo della SIECO in Pavi d'Ortona, Massimo Donofrio. Allora Massimo, buongiorno, buongiorno a te. Prima di parlare di questo momento estremamente positivo che sta vivendo la squadra, va detto che domenica riposerete perché c'è la Coppa Italia, dove voi non siete impegnati. No, noi purtroppo per un 7 siamo rimasti esclusi dalla qualificazione a poter disputare le fasi antecedenti a questa finale. Tornerete in campo domenica 17 in trasferta a Cantù. Voi venite da una trasferta vittoriosa a Catania, era uno scontro diretto in chiave quarto posto, ricordiamo che la quarta posizione è preziosa perché dà la permanenza garantita in Serie 2. Avete vinto 3-0 questo scontro diretto, gara perfetta. Diciamo di sì, diciamo che questa vittoria viene come quinta vittoria consecutiva. Le precedenti cinque partite anche inframezzate dalla sconfitta con Bergamo ci aveva visto sempre comunque in campo vittoriosi. Quindi in questo è un momento molto positivo che stiamo vivendo e che per fortuna viene dopo una fase iniziale del campionato che ci aveva visto un po' in difficoltà. Chiaro che adesso siamo terzi in classifica, abbiamo distanziato la quarta e ulteriormente la quinta. Siete a sei punti dalla quinta posizione. Dalla quinta posizione. Diciamo che la partita di Cantù potrebbe cominciare a essere una partita determinante per capire effettivamente se questa terza posizione può essere mantenuta. Se non addirittura ci può dare la possibilità di scalare la seconda. Nel senso che questa è la vittoria del gruppo e della squadra. Perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo di nuovo avuto un'infortuna importante a Ludovico Dolfo che ha quattro partite che non gioca nonostante la sua assenza. Quando rientrerà? Dunque diciamo che per Cantù ci auguriamo di poterla avere a disposizione. Forse non in campo ma a disposizione. E poi Simone Michele, anche lui, ha avuto una brutta recessione alla caviglia. Quindi domenica a Catani abbiamo giocato con un ragazzino nel 99 che non ha mai visto il campo. Nonostante questo il gruppo, la squadra in questo momento è veramente nella condizione proprio ottimale. Quindi è un gruppo forte, un organico importante e anche le persone che normalmente si siedono in panchina sono pronte ad entrare e quando vengono dimostrano. Hai parlato di Dolfo, ci sono anche altre individualità ovviamente come Marx per esempio. Sì, come Marx, Christophe che diciamo dall'inizio dell'anno, forse magari all'inizio ha avuto quei problemi fisici derivanti da una scarsa condizione proprio di partenza con cui si è rappresentato. Adesso sta dimostrando di essere sicuramente uno degli opposti più forti del campionato. Poi ho Gurchak e Ferro che sta facendo spesso e volentieri la differenza nei momenti determinati all'incontro. E poi ti ripeto anche chi entra anche in battuta come Fiscon che nella partita scorsa con Gioia è entrato in battuta e ha fatto 5 ace. Quindi insomma quando hai a disposizione i giocatori che riescono a strappare in questo modo nell'arco di un set e poi riesci veramente a vincere. L'ultima massimo sul pubblico, sull'ambiente di Ortona che ha sempre vissuto con tanta passione le vostre imprese come stanno rispondendo sicuramente molto bene. Sì sicuramente più dell'inizio dove insomma anche a causa dei risultati magari la delusione. Certo che ancora non abbiamo visto il pubblico di tre stagioni fa insomma e noi ci auguriamo ogni volta che entriamo in palestra per rispondere a una partita di poter rivedere il palazzetto strappieno come eravamo abituati a vedere. Grazie, grazie di cuore a Massimo Donofrio, direttore sportivo della Seca in Pavia di Ortona e vi ricordo che la squadra tornerà in campo non domenica prossima il 10 febbraio ma il 17 in trasferta a Cantù. È tutto, linea che può tornare allo studio.